Sergio Romano, incontro conclusosi nel migliore dei modi, come è andata, come ti è sembrato il tuo avversario? Di troppo, pensavo che fosse meno coriaceo, meno combattivo, invece mi ha sorpreso e sono sincero, ho voluto fare le otto riprese, mi sono voluto testare alla distanza, non ho forzato, anche se avevo la condizione per provare a chiudere il match prima del limite, però in visione anche dei prossimi impegni ho voluto constatare la mia condizione sulle otto riprese. Hai vinto l'incontro, ma Isernia questo evento ha fatto vincere il pugilato. Ma io credo che dopo 50 anni questo evento ha battezzato nel terzo millennio la città con la nobile arte e chi meglio di voi mi può confermare se l'evento non è stato grande uso? Speriamo di rivederti anche l'anno prossimo e che ci siano appunto una serie di eventi a tema. La promessa dell'assessore prima e del delegato del CONI? Beh, ovviamente, testato il successo, come si dice, buona la prima.